Rimane impressa nella mente l'immagine terribile delle bare accatastate e tre rifiuti di un magazzino di scurelle. Le indagini dei carabinieri continuano per accertare quante salme siano transitati in questo posto orribile. Si pensa ad oltre 300, ma nel momento del blitz gli investigatori hanno trovato 27 bare, di cui tre casse in zinco aperte. L'orrore ha fatto il giro del Veneto in pochi istanti. Secondo i primi accertamenti si tratta di corpi tumulati da circa 25 anni e recentemente esumati per fare spazio nei cimiteri, secondo una pratica regolamentata dalle direttive cimiteriali. La cooperativa dell'Alta Val Sugana aveva l'autorizzazione per trasportare le bare dai cimiteri fino al forno crematorio nel Trentino, ma la prima tappa era in questo magazzino. Qui i resti dei corpi dei defunti venivano tolti dalle bare e messe nei sacchetti di nylon, ognuno con una propria etichetta nominativa. Solo in un secondo tempo venivano portati al forno crematorio. Le bare invece venivano letteralmente sezionate. I metalli che contenevano le casse, principalmente zinco e ottone, venivano recuperati e rivenduti al mercato nero. Non solo, ma la cooperativa risparmiava anche gli oneri per l'incenerimento delle bare, arrivando così a guadagnare fino a 400 euro a Salma. Si parla di un giro d'affari di circa 300 mila euro in pochi mesi. Il titolare della cooperativa, un 65enne denunciato dai carabinieri, avrebbe giustificato agli investigatori che non pensava di fare nulla di male. Le salme arrivano dai cimiteri del Veneto, in particolare dal Vicentino, Rosà, Tezze sul Brenta e Brendola, da Cordignano nel Trevigiano, Abano e Quadonega in provincia di Padova e Pianiga nel Veneziano. Nelle prossime ore saranno chiamate dai rispettivi sindaci le famiglie dei defunti. Non c'è solo una questione economica, ma anche morale. Presto potrebbero partire contro la cooperativa diverse denunce. Non solo, ma gli investigatori dovranno accertare se all'interno delle bare ci fossero stati monili, che non sono stati trovati. Questa mattina i carabinieri hanno depositato in procura gli atti con la richiesta di convalida del sequestro del capannone.